Nuova sparatoria contro la polizia negli Stati Uniti, almeno tre agenti sono morti, altri quattro sono rimasti feriti a Baton Rouge. La località in Louisiana, dopo una decina di giorni fa, un afroamericano, 37enne, è stato ucciso dalle forze dell'ordine, scatenando le proteste in tutto il paese. Ad aprire il fuoco con un fucile d'assalto tra un mini market e un lavaggio d'auto, un uomo vestito di nero e con il volto coperto. In corso la caccia al killer. Quanto è accaduto a Baton Rouge? Un atto ingiustificato in un momento in cui abbiamo bisogno di unità e riconciliazione. Ha scritto su Facebook il governatore della Louisiana, John Bell Edwards.